Il programma della giornata Questo è il nome degli ospiti di cui dovrete occuparvi E non dovrete sbagliare Signor Pietro, se permette dobbiamo togliere il pannolone Già fatto, sta nel bagno Ma gliel'avevo già data io a lui Ma come? Lui era mio Ma gli farà male Tu pensi solo al tuo di dolore Ma agli altri, a quello che puoi provocare agli altri, non ci pensi Io non voglio che qualcuno decida per me Voglio essere io a decidere Hai visto come ti guarda? Ma come cazzo fa una cosiddetta di lavorare in un posto del genere? Aspetta anche lei la curiera Sono appena arrivato È il mio primo giorno di villeggiatura Mi hanno detto che si mangia molto bene qui Eccoci Siamo andati oltre Abbiamo scavalcato il punto di rugiada Ti sta colando la tinta? Quale tinta? Alla prossima Alla prossima Alla prossima Take our love letters From the south From the south Alla prossima Alla prossima Alla prossima